Sopra la panca la capra campa sotto la panca 3 tigri contro 3 tigri 33 trentini entreranno a Trento Tutti i 33 Ma ciao Ve l'ho dato nei video precedenti Se capita che qualche azienda mi contatta Per proporre qualcosa Vi voglio coinvolgere E qui c'ho il labbro Come si dice? Il labbro leporino Ecco, non credo che si dica così Mi ha scritto un'azienda E mi ha chiesto Entro 17 giorni Ti mandiamo il prodotto Entro 17 giorni Manda fuori il video E ho detto Sì, va bene E così è stato Cioè mi hanno mandato il prodotto E mi hanno chiesto di fare vedere come funziona E com'è Perché ve ne voglio parlare? Perché ho accettato questa cosa? Perché io di fatto Faccio un sacco di errori Quando monto questo video Quando registro questo video Io spesso mi sbaglio Spessissimo Adesso uso la tecnica di sormontare il video In qualche modo E sembra che sono E sembra E sembra di essere particolarmente fluente Ma non è così Io mi sbaglio spessissimo È una vera tragedia Non lo so Se è Probabilmente È una cosa che non ho mai diagnosticato Forse si chiama dislessia Non lo so Comunque sia Di che cosa voglio parlarvi? Ma di il gobbo elettronico Continuate a guardare il video Perché so che apparentemente Può non essere abbastanza interessante Ma invece È curioso È buffo E tra l'altro Usatissimo E sono convinto che potrebbe essere utile anche a voi Quando vedete gente che parla Bla 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 In modo continuativo sta usando uno di quelli Quindi mi rivolgo a tutti quelli che fanno tiktok Che fanno live O video come questi Il gobbo elettronico è molto utile Ma come è fatto il gobbo elettronico? Oh cazzo non lo so dire Questo lo inserisco eh Ma come è fatto il gobbo elettronico? Così È dentro qua Non ci credete? Qui dentro c'è un piccolo gobbo elettronico Utile per noi Che facciamo i video Ma bando le ciance Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro Non vi ho detto che il gobbo elettronico In inglese si dice teleprompter E questo è dalla Lee 20 Vediamo cosa c'è nel cartone Abbiamo questa stoffa Che io so che cos'è Dopo vi faccio vedere Questo telaio Un po' di oggetti vari Che poi andiamo a vedere quali sono Manuale di istruzioni E qui vi fa vedere di cosa stiamo parlando E queste plastiche Due particolarmente robuste E una trasparente Adesso non lo è Perché c'è la pellicolina da togliere Ehi ma ti vedo molto preparato E poi vi spiego come mai io lo so già E dentro la bustina il telecomandino Questo Perché è un telecomandino? Perché ovviamente il gobbo elettronico È semplicemente uno specchio a 45 gradi Semi riflettente Dove dietro si nasconde la telecamera E sotto Che fa riflesso Si mette il proprio cellulare Quindi c'è un'app da scaricare E si usa col telecomandino Quindi adesso Va assemblato E si fa in un modo molto semplice Adesso mi cimento Seguo le istruzioni O non le seguo Faccio tutto ad intuito O meglio guardarle Facciamo tutto ad intuito Vabbè intanto nel frattempo Vi racconto com'è andata Mi mandano una mail Porca miseria E c'era scritto E c'era scritto Vuoi collaborare con noi? Eh va bene Ma cosa volete da me? Tipo dialogo Intanto bisogna togliere Queste pellicole protettive Cosa serve L'obsoleta palestra? Medioevale palestra Fucka la bindella Fosse così interessante Da mettere Sul mio canale Però ho detto Va bene Facciamolo lo stesso Perché a dire verità Il gobo elettronico L'ho usato L'ho usato per fare alcuni video Del corso per dj Soprattutto la prima lezione Perché c'erano delle parti Che non potevo dire a memoria Era impossibile per me Ma torniamo al nostro aggeggio Questa è una prima base Che si mette qua Bisogna far combaciare i fori Vedete? Yuhuuu Ma la storiella delle email Non è finita qua Perché io Gli ho scritto Guardate ragazzi C'ho dei video programmati Non è che venite Fra dj Entro 15 giorni Devi mandare il video Eeeh Eeeh Che Calma Eeeh Che Ho detto tutto Fatto sacco Gli ho detto Guardate che c'ho Almeno 2 o 3 video Già programmati Uscirà? Quando uscirà? Che vieni a casa mia Mi comandi a casa mia Eeeh Io personalmente Ho imparato dalla vita Che bisogna comandare A casa propria Però mi rendo sempre disponibile Intanto ho montato Il secondo ripiano Va qui Quindi abbiamo due piani Sotto Sopra Poi onestamente Ho aspettato un po' Un po' troppo E mi arriva l'email Eeeh Oggi Che mi fa Ehi non hai fatto il video? Ah Dovevo farlo Subito Non l'avevo ancora fatto Bene Allora cerco di farlo Ed eccolo Praticamente si erano anche arrabbiati Cioè io Non guadagno niente Perché praticamente Mi hanno pagato questo Io devo fare anche il video Quindi uso un po' del mio tempo E non è neanche detto Che questo video Interesse qualcuno E loro E loro mi sgridano Non so no con chi hanno a che fare Ma torniamo a noi Ci sono due ripiani Uno sopra Uno sotto E ci sono questi pistolini qui Che vanno inferiti in questi fori Vanno dentro a pressione Ve lo faccio vedere da vicino Così almeno loro diranno Ah si hai fatto un bel video Bravo bravo Ho fatto un bel video Ve lo faccio vedere da vicino Ciao E vi faccio vedere Accendila però Che metto il pistolino qua A pressione Tac Insomma la cosa si ripete per tutti i fori Tac 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 E tac Lavoro quasi completato Ora cos'è che ci manca da fare Mettere questo Questo a differenza di questi qui Che sono neri E' trasparente E si deve togliere la pellicolina Questo si che è soddisfante Vale quasi tutto il video Adesso ve lo faccio vedere per benino Aspetto Accendo anche questa Ancora In tutte le angolazioni Eccola qua Pellicola trasparente Vediamo se la vedete C'è Non c'è C'è Non c'è Questa farà da specchio A 45 gradi Cosa vuol dire Che riusciremo a vedere Quello che appoggiamo qua Dal davanti L'ho spiegato male Scusate sponsor Ve lo rispiego meglio Questo è lo specchio Che ci permette di vedere Il tablet O il telefonino Che appoggeremo su questa superficie Infatti Quello che viene appoggiato qua Viene riflesso E può essere visto dal davanti Da noi Da me La telecamera che sta dietro Non vede questo riflesso E quindi riprende Come ha sempre fatto Adesso vi faccio vedere Si inserisce la pellicola qui Come montiamo questo accrocchio Ci vuole un cavalletto Possiamo usare questo Questo forlino qui Ci permette di mettere Il nostro gobbo In questa posizione Viene dato in dotazione Un coso come questo E quindi Tac Lo avvito Ed ecco Così diventa un tutt'uno Adesso cos'è che dobbiamo fare Possiamo mettere La nostra fotocamera O un cellulare Come prima cosa Proviamo il cellulare Perché probabilmente voi Farete qualche video Su un tiktok O qualcosa del genere Cosa si deve fare Si prende il portacellulare E lo si mette qua E questa è la vitina Da avvitare sotto Tac Adesso secondo voi Come andrà a finire Questa storia dell'email Io che faccio i video in ritardo Bla 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 Non ne ho idea Ma onestamente È che vado pazzo Per le cose Tipo il gobbo elettronico Bene Intanto il nostro coso Per i cellulari L'ho messo E cosa si deve fare Si prende il cellulare E lo si mette qua Tacchete Ma adesso Avviene la magia Serve un altro cellulare E cos'è che bisogna fare Andare nello store E la loro app Si chiama lì e venti Non lì e venti Lì venti E l'app è questa qui Si installa Installata E qua abbiamo Il primo problema L'app è a pagamento Costa 3 euro e cinquanta Ragazzi Adesso vi faccio vedere Delle alternative Basta scrivere teleprompt Io di solito Uso questo qua Elegante teleprompter Creo un nuovo testo Tipo Cosa Dire E qua scrivo Beh Ho detto che preferisco Benvenuti sul canale E se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E cliccate sulla campanellina Bene Adesso basta cliccare sul triangolino Cioè il play E si vede la scritta Però qual è il problema È dritta Perché noi Dobbiamo vederla A rovescio Siccome questo è uno specchio In granaggino Mirror E adesso vi faccio vedere Cosa si vede Si vede a rovescio Bene Adesso Vi spiego cosa serve questo Il cellulare si mette qui Il telo con tanto di firma Si mette sopra Così evitiamo Che lo specchio Faccia il doppio effetto Cioè la luce che arriva da sopra Va a finire nel cellulare E per capire come funziona correttamente Dobbiamo spegnere le luci Alexa Spegni studio Adesso lo faccio partire Non so se si vede No Non si vede un pezzo Prova su quest'altra fotocamera Ecco In questa qua si vede molto meglio Vedete le scritte? Si possono leggere Alexa Accendi studio Ovviamente adesso ho provvizzato un testo così al volo Ma qui dentro potete metterci un cellulare O meglio ancora un tablet Messo qua dentro Tac Potete vedere tutto il testo Che potete leggere con calma E voi lo potete vedere di fronte Bene Ma cosa ci serve il telecomandino? Il telecomando Si collega via bluetooth al cellulare O al tablet Vi permette di andare avanti Indietro Con il testo Si perché questi tasti Li potete programmare come volete E quindi muovere il testo più veloce Più indietro Cambiare pagina Come volete voi Non mi ricordo cosa servono questi gommini Le mollette invece Vi permettono di bloccare Il telo Ovviamente come opzione Adesso manca la fotocamera La tolgo dal suo cavalletto E la monto qui Cioè in pratica La si avvita qua sopra Quello che voglio farvi vedere È cosa vede la telecamera Sto riprendendo Dovresti vedermi tranquillamente Come sempre Beh a di verità Questi danno un po' fastidio Ecco Così credo che non si vedano Sì Il problema c'è Quando ci sono le fotocamere Che hanno il grand'angolo La mia ZV1 Ci ho montato il grand'angolo Originariamente non era così Sembra quasi una fotocamera Importante Tac Quindi per questi gommi elettronici Meglio non usare il grand'angolo Perché sennò prende dentro Tutto il tessuto eccetera eccetera Ma perché in tutto il video Hai sorriso così tanto E ve lo spiego Io ce l'avevo già L'avevo già preso È lo stesso Guardate Avevo già preso un gommi elettronico Adesso ce ne ho due Cosa te ne fai? E che ne so È che io voglio imparare A vedere tutto il meccanismo Di quando ti contattano Ti mandano l'email E mandi il video E non mandi il video Quindi amici dell'Aleventi Io ero già vostro cliente L'avevo già preso Fatto sta Se vi interessa Perché se dovete parlare Davanti alla fotocamera E non siete sciolti Come non lo sono nemmeno io Il gommi elettronico serve Anzi vi dirò di più Io prima di comprarlo Avevo pure costruito uno Che botta ha dato la GoPro Eccolo Questo è il mio gommi elettronico Me lo sono costruito da solo L'ho trovato in questo video qui Ancora quasi due anni fa Quando iniziamo a fare i video Questo si monta esattamente così Cavallettino E rondellina Vabbè sarebbe un dadino Con la vite E questo era il mio gommi elettronico La fotocamera si piazza qua E il tablet qua Non l'ho mai usato Anche perché secondo me Questa fotocamera Prendeva tutti i riflessi Questo plexiglass Non era di buona qualità Che mi tocca fa Bene volete parlare in modo fluido Davanti alla fotocamera E non fare come faccio io Piccolo stacco Piccolo stacco Piccolo stacco papere Questo coso è quello che vi serve Allora adesso vi chiedo Per favore Ma secondo voi Sono attendibile Come uno che presenta prodotti? Soprattutto se questi prodotti Probabilmente non li sia mai Guarda questo qua Gigantesco E non l'ho mai usato Questo l'ho usato solo una volta Per il resto Viva il montaggio video E rispondetemi nei commenti Il mio scopo dei video Oltre a parlarvi delle mie passioni E anche intrattenervi Quindi spero di poter Quindi spero che vi siate divertiti A vedere questo gobo elettronico Anzi questi gobi elettronici Che di elettronico non hanno niente A dire la verità Mi raccomando Iscrivetevi Cliccate sulla campanellina Commentate E fatemi sapere Se queste cose vi interessano Oppure Oppure Punto Basta Prossimo video Ciao a tutti Ah ragazzi Io ho trovato Ho trovato il testo del corso Avevo detto questo cellulare Ho voloso Ho voloso E διαstrate So E Che guardano 醒